ciao ragazzi ciao finalmente quasi due mesi anzi più che quasi ormai sono due mesi che non ci si sente più allora vi volevo dare una bella notizia per tutti tutte le persone che aspettavano il 77 pollici di panasonic mi ha contattato poco fa luigi pasotti di pasotti store avvisandomi che settimana prossima gli arrivano le famose quantità che aveva già ordinato da mo allora c'è già un piccolo elenco creato dal nostro gruppo ok e più anche di altri se siete veramente interessati o se siete ancora interessati all'acquisto di questo prodotto vi consiglio di contattarlo immediatamente anche perché settimana prossima arrivano e non so quanto dureranno quei pochi pezzi che arriveranno vi volevo avvisare di questo e ragazzi cosa dire mi sembrava cosa gradita guardate qua dove siamo finiti con miri miri in questo in questi giorni siamo a dove siamo a gouda gouda la famosa gouda anzi la famosa città gouda dove fanno il formaggio quindi un po di cultura e siamo esattamente dove siamo a in olanda la stavo dicendo ad amsterdam siamo in olanda ragazzi e prossimo video ragazzi non lo so quando ritorneremo faremo una live dai anche 20 chilometri da rotterdam ah ok grazie grazie con questo è tutto ragazzi dal gandalf un abbraccio a tutti mi raccomando fate i bravi ciao ciao ciao